guardate che tramonto sul ticino abbiamo aspettato il crepuscolo per farvi questo video va che bellezza allora ragazzi questa sera operazione ris si siamo qua a testare una piccola torcia a raggi che abbiamo preso per vedere se riusciamo a trovare qualche corindone visto che qua sul ticino ci sono tanti andiamo a vedere andiamo a vedere facciamo due tè vava che bella luce ehi funky andiamo a cercare un po di corindoni allora io direi che qua già potrebbe essere buono troviamo qua beh sì guardami un attimo guarda qua eh voilà vediamo cosa dice il tè un po di plastica si è il cappello del killer sta luce ragazzi si vede che quella è già più cristallino si si comunque ti dirò vedi che emana molta più luce si si vede molto adesso ci siamo divertiti abbastanza io direi di sì dai abbiamo constatato che funziona che facciamo andiamo